Buongiorno e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di questa nuova sala che ci accoglie. Restiamo in contatto per far crescere Nacera. E' questo lo spot utilizzato dal sindaco della città capofila dell'agro Paolo De Maio per presentare il nuovo sistema di comunicazione Sindaci in Contatto 2.0, una piattaforma che avviserà i cittadini in caso di emergenza ma anche in caso di una semplice chiusura di un edificio scolastico, della variazione del piano traffico, di un cantiere e di tante altre attività che riguardano la città. E' stata l'occasione anche per presentare la nuova aula COC con le telecamere che controllano lo stato dei fiumi e che avvisano i responsabili in caso di emergenza. Sindaco De Maio, una giornata importante per evidenziare il lavoro della protezione civile per quanto riguarda il rischio idrogeologico e poi per presentare quest'app Sindaci in Contatto 2.0. Ma è un lavoro che abbiamo prodotto in questi mesi tra una stretta collaborazione con l'assessore Lamberti e gli uffici. Abbiamo installato delle telecamere che ci consentiranno nei cinque punti più critici dell'alveo comune Nocerino, Solofrana e Cavaiola anche ovviamente, ci consentiranno di monitorare costantemente dalla sala COC lo stato dei torrenti così da poter in fase emergenziale coadiuvare con le associazioni di protezione civile che ormai accompagnano anche dalla passata amministrazione questo lavoro. Potremmo così organizzare un lavoro ancora più capillare sul territorio. Nel contempo abbiamo presentato quest'app che ci consentirà di comunicare e di interagire singolarmente con i cittadini in modo da far partire le singole telefonate sia per comunicare uno stato di allerta in eventuale evacuazione ma sia per quanto riguarda un'allerta meteo, una chiusura di un plesso scolastico, una modifica della viabilità. E questo mi piace rappresentare che è un lavoro trasversale dell'amministrazione perché lo facciamo coinvolgendo tutti i settori dell'amministrazione perché è un'attività che può essere utile ai lavori pubblici, può essere utile alla pubblica istruzione, può essere utile chiaramente alla protezione civile soprattutto e lavoriamo per metterli in rete in modo da offrire un servizio sempre migliore alla popolazione. Tra l'altro il Comune di Nocera era già dotato di un'app del genere voluta fortemente dall'architetto Ferrara a cui è dedicata anche la sede del gruppo comunale, resta ancora attiva in contemporanea o verrà disattivata? Questa è un altro tipo di app, qui partono le comunicazioni, le telefonate, io sono in possibilità di registrare un audio e far partire le telefonate singolarmente a tutti i cittadini. credo che con un poco ma con tanta abnegazione e un po' di organizzazione stiamo dotando un ufficio di protezione civile, è una sala coc di un'organizzazione che penso sia a passo di quei tempi. Ho anticipato che al prossimo incontro con i sindaci dell'agro proporrò proprio un coordinamento anche di una protezione civile dell'agro perché ormai non possiamo parlare più di tratti che ricadono nelle singole città ma sono questioni che ormai affrontiamo anche in modo comprensoriale così come siamo riusciti a interagire con la regione e ci ha portato a destinare interventi importanti già in questa fase sugli alve e allora è giunto il momento di anche la fase emergenziale gestirla in modo comune. Ci troviamo all'interno dell'aula coc, come diceva lei. E' qui dove in caso di emergenza lei si riunisce con la protezione civile, con le forze dell'ordine e emana quella cosiddetta allerta meteo per quanto riguarda le scuole. Siamo alla vigilia del suono della prima campanella, almeno la data regionale. Vuole provare a spiegare cos'è un allerta meteo, cioè perché un sindaco decide che una scuola deve chiudere visto che sappiamo che tra poco cominceranno ad arrivare i messaggi di genitori e alunni che invocano chiusure o aperture. Ci sono ormai diversi motivi che vanno contemplati in questo tipo di attività, può riguardare la vicinanza di un plesso rispetto a un alveo che in quel momento presenta delle criticità, ci sono questioni di avabilità che un'eventuale previsione di precipitazioni copiose possono portare ad anticipare eventuali problematiche che si possono avere nelle fasce di orari di ingresso o di uscita dalla scuola, così come la questione epidimontana che spesso coinvolge i alert della regione campania, ci possono indurre a anticipare eventuali fenomeni in modo da gestire al meglio plessi scolastici. Un'ultimissima, abbiamo visto le telecamere che controlleranno lo stato dei fiumi, altre telecamere dovrebbero controllare lo sversamento abusivo dei rifiuti, a che punto siamo con l'installazione delle fototrappole e soprattutto con il controllo del territorio per questo aspetto? Quello è un'attività che stanno portando avanti sia il corpo di polizia municipale con gli ispettori ambientali e l'ufficio ambiente. Ora stiamo provando a destinare anche parte del personale degli ispettori proprio alla visione delle telecamere in modo da avere un'attenzione più puntuale e costante. Sapete, abbiamo anche approvato la progettazione e la ricognizione economica finanziaria di questo finanziamento di circa 150 mila euro ricevuto dal Ministero attraverso la Prefettura. Questo primo finanziamento lo destineremo all'area centrale della città, soprattutto la stragrande maggioranza sarà destinato alla messa in rete dell'impianto che non è più elevato tecnologicamente, quindi lo ammoderneremo e soprattutto verrà messo in rete con le forze dell'ordine e poi doteremo il centro cittadino, il quadrilatero, quello oggetto spesso di movida e anche di problematiche agli impianti di sorveglianza. Poi abbiamo invece partecipato ad un altro avviso il cui risultato non è stato pubblicato che invece abbiamo destinato totalmente alle periferie della zona industriale e all'area di San Mauro e Fiano. Assessore Lamberti, principale promotore di Sindaci in Contatto 2.0, lo abbiamo appreso dalla conferenza stampa, un po' dalle parole del sindaco, vuole spiegarci nel dettaglio in cosa consiste questa applicazione e poi la brillante idea lanciata dal sindaco per la protezione civile dell'agro. Sì, spiegarla è semplice perché è semplice il sistema, una telefonata, abbiamo la possibilità di individuare i cittadini interessati dalla comunicazione che vogliamo trasmettere, che vogliamo far arrivare in tempo reale, immediato, quindi con una telefonata. raggiunge anche i numeri di cellulare, quindi sia chi è in strada sia i numeri di telefono fisso che sono già in dotazione dell'ente e quindi anche appunto gli anziani o le persone che sono a casa ricevono una telefonata e dal sindaco o dall'amministrazione per essere informati da ciò che riteniamo importante. Possiamo sia individuare delle comunicazioni più tecniche come sono quelle inerenti al settore idrogeologico, quindi allerte, chiusure di strade, ma anche comunicazioni che servono a coinvolgere ancora di più la cittadinanza per eventi o per iniziative di cui l'amministrazione si fa promotrice. Nicola Santanillo, coordinatore del gruppo di protezione civile comunale. Oggi è una giornata importante anche per voi perché finalmente vengono svelate al pubblico alla stampa queste telecamere e poi l'applicazione Sindaci in Contatto 2.0 che sarà certamente utile per aiutare la cittadinanza. Sì, effettivamente è un giorno importante perché oltre a presentare un'applicazione sia per le telecamere sia per Sindaci in Contatto 2.0, si coordina in sinergia con quello nazionale. Manco a farla apposta, per la comunicazione, per l'assistenza alla popolazione è il massimo. La differenza fra le due è che mentre IT Alert nazionale, regionale, provinciale, noi avendo questa qui di Sindaci in Contatto è una cosa mirata solo al nostro territorio e al territorio di altri comuni limitrofi dove, come è capitato nel passato, molte emergenze meteo di allarme arancione, allarme rossa, allerta rossa non hanno colpito il comune nostro di Nocera. Oppure in casi in cui all'area cittadina solo alcune aree erano interessate e quindi l'applicazione Sindaci in Contatto 2.0 arriva molto più capillare, però in sinergia con quello che è sulla comunicazione nazionale. I mezzi ora ci sono e sembrano essere anche efficaci. Credo che la cosa più importante sia quella di sensibilizzare la popolazione a seguire gli input che arrivano da queste applicazioni perché molti ricevono il messaggio, lo cancellano e lo ignorano. Allora, noi partiamo dal presupposto che la conoscenza aiuta e come si dice in alcuni casi la conoscenza è potere. Se non si sa non si riesce ad aiutare. Noi volontari, con tutta la buona volontà, come prima facevamo ad avvisare territorialmente con i megafoni, citofonando, era una cosa veramente enorme. Adesso con l'applicazione di Sindaci in Contatto 2.0 questo lavoro per noi volontari è snellito e ci aiuta a lavorare meglio, quindi a intervenire in luoghi specifici, in casi specifici. Dottoressa Stefania Papa di Enterprise Contact Group di fatto ha realizzato Sindaci in Contatto 2.0. Tecnicamente vuole far capire ai nostri ascoltatori cos'è questo sistema di comunicazione. È un sistema di comunicazione istituzionale, nasce per allerta, però in effetti viene utilizzato per mettere in contatto i sindaci con la popolazione. In che modo? Noi mandiamo delle chiamate vocali sia sui numeri fissi che sui cellulari e per comunicare qualsiasi tipo di notizia, che può essere dall'alerta meteorossa, arancione, gialla, un problema di sospensione idrica, può essere eventualmente una chiusura a strade, chiusura a scuole, qualsiasi tipo di comunicazione, semplicemente un invito ad un evento in piazza per una rappresentazione prevista dal comune. In che modo? Noi mandiamo delle chiamate vocali, questo perché? Perché ci siamo resi conto che le app arrivano ma fino ad un certo punto. Noi ci teniamo come società ad arrivare a tutti, perché ci rendiamo conto che la popolazione in Italia è una popolazione anche fatta di persone anziani che non hanno dimistichezza sui social, per cui c'è bisogno di mandare la chiamata vocale e noi siamo sicuri che il cittadino anziano al telefono di casa risponde, per cui le chiamate arriveranno sui cellulari e sui numeri fissi. Si possono anche geolocalizzare delle zone, faccio un esempio, ci sono dei problemi di mancanza d'acqua o mancanza di energia elettrica in una determinata via o in un insieme di vie limitrofe, si va a geolocalizzare l'aria e si manda le chiamate soltanto a quelle determinate persone che sono residenti in quella determinata zona. Per cui Sindaci in Contatto nasce così, è stato pensato per avvicinare il sindaco ai suoi cittadini con problemi ma anche con cose positivi, come dicevo prima, un invito ad un evento. Dottoressa Stanzione, oggi è stata presentata Sindaci in Contatto ma è stato reso noto ai cittadini anche della presenza di queste telecamere che controllano i fiumi ed è un sistema importante anche per voi dirigenti e per tutti gli operatori che potete tenere sotto controllo e avviare subito la macchina organizzativa in caso di emergenza. L'ufficio di protezione civile ha immaginato di realizzare appunto questo sistema di videosorveglianza attiva dei corsi d'acqua per essere capaci di intervenire nei casi di pericolo per tempo in maniera tale da poter avere noi costantemente sempre a conoscenza il livello dei corsi d'acqua e procedere poi a realizzare gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata in columnità. Quindi attraverso questo monitoraggio attivo noi oggi siamo in grado di capire qual è il livello idrometrico dei corsi d'acqua e poi di mettere in campo le azioni dovute. Ci ha detto in conferenza stampa che sarà possibile anche da remoto avere sotto controllo il tutto quindi significa H24 e significa avere la possibilità di informare i cittadini e di attivarsi immediatamente in qualsiasi momento della giornata. Sì, la sorveglianza avviene sia attraverso la sala COC che attraverso un sistema di remoto noi incaricati di protezione civile abbiamo sul nostro cellulare installato un'app in maniera tale da poter visionare il livello dei corsi d'acqua anche fuori dagli orari dell'ufficio. Al sistema di videosorveglianza poi abbiamo collegato un sistema di notifica IcVision che è un sistema push di allarme che qualora vi siano delle piene nei letti e nei corsi d'acqua noi riceviamo questo sms di notifica e stiamo in grado poi per tempo di poter mettere in campo le azioni necessarie. Tra i dubbi che sono giunti ai cittadini a proposito di queste telecamere ma di notte sarà chiara l'immagine del corso d'acqua quindi sono telecamere ovviamente di ultima generazione? Sono telecamere di ultima generazione e le immagini che noi riprendiamo sono archiviate e registrate in un database che abbiamo qui conservato nella sede comunale per poter poi prenderle eventualmente qualora ci fosse la necessità di poterle revisionare anche in tempi diversi. Grazie a tutti.